Acquaiano e i carabinieri della compagnia di Giuliano in campagna hanno effettuato un servizio ad alto impatto nel Camp Rom Costaiola sulla circunvalazione esterna. In gente il dispositivo impiegato che ha visto il prezioso contributo delle altre compagnie carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna e del nucleo carabinieri elicotteristi che dall'alto hanno potuto monitorare l'intera zona. All'operazione volta al controllo di diverse tematiche che vanno dall'illegalità diffusa all'assistenza hanno partecipato oltre agli agenti della locale polizia municipale anche i servizi sociali e il personale comunale dell'ufficio tecnico nonché gli impiegati dell'Enel e della società acquedotti. Diverse le perquisizioni effettuate con 25 persone denunciate per smaltimento illecito di rifiuti, ricettazione e dispersione scolastica con molti bambini presenti. Denunciati inoltre anche 12 uomini, capofamiglia di altrettanti nuclei familiari per furto di acqua e abusivismo edilizia. Accertato infatti un allaccio abusivo costruito ad hoc e collegato alla rete idrica comunale. 14 veicoli sequestrati trovati senza la copertura assicurativa essi quali sono in corso accertamenti per individuare gli effettivi proprietari. Molti eplici gli arnesi, gli attrezziati e lo scasso che i carabinieri hanno sequestrato e consegnato a una ditta specializzata per la distruzione. Una vera e propria riscarica a cielo aperto dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato parti di auto e moto, provento di ricettazione e affidati al custode giudiziario. Durante l'operazione sono stati rimossi 50 metri cubiti di rifiuti ingombranti e RSU. L'operazione ha permesso anche di censire i dimoranti dell'area che sono risultati essere 51 per 12 nuclei familiari. Un'area a ridosso della strada a scorrimento veloce dove i carabinieri hanno constatato un deposito abusivo di circa 10.000 metri quadrati di rifiuti di vario genere pericolosi e non in parte già incendiati. Durante i controlli infine c'è stato anche il tempo di sanzionare un'altra persona. Si tratta di un sessantenne di qualiano che è entrato nel campo e non si è accorto della presenza dei carabinieri nonostante quel trambusto e carattrezzi che andavano e venivano. L'uomo a bordo di un'auto è sul tetto del mezzo due materassi ben legati. Chiara la volontà dell'uomo che è sceso dall'auto non ha potuto fare altro che ammettere la propria colpa ai militari li presenti.